Musica Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cura93 Oggi sono qui con un video molto rapido, anzi più che rapido, molto tecnico perché vorrei farvi vedere ovviamente il controller Razer Rush Il controller Razer Rush che ovviamente è stato reso disponibile più o meno due settimane fa e io ho avuto la possibilità di provarlo, anzi di provarlo, di comprarlo e provarlo per voi giustamente per non fare un acquisto azzardato su un controller che magari potrebbe peccare su alcuni aspetti Come avete potuto notare la forma è molto simile a quel controller dell'Xbox One Comunque andiamo a scoprire questo controller direttamente con una visione più tecnica Allora eccoci qui con la scatola che contiene il controller Razer Rush Come possiamo vedere ovviamente il prezzo lasciamo perdere 170€ Secondo me li vale? Secondo me no E' un controller che magari può valere 120, 130, massimo 140€ Perché se ci fate caso un controller come il controller Elite della One Costa 150€ e ha molte più texture per modo da dire, diciamo più optional Nel senso che se noi apriamo il controller della One vedremo che a disposizione avremo il cavo Il cavo che c'è ovviamente anche per il Razer Due vari tipi di analogici alti, bombatti, croce direzionale, levette, tutto magnetico Secondo me 160€ sono veramente tanti Poi ovviamente ognuno è libero di spendere i soldi come cacchio vuole Comunque vi stavo dicendo, Razer vi lascia, vi dà una confezione così Ovviamente dentro la scatola io l'ho voluta togliere però è così La lettera di ringraziamento da parte di Razer per aver acquistato il loro prodotto Poi il controller con l'apposita scatola sotto l'altro libretto di istruzioni per poter utilizzare le altre funzioni che ha il controller Qui in questo pezzettino, questo quadratino qui in cartone c'è il cavo che io ovviamente neanche vi faccio vedere Perché è un cavo in tessuto come il cavo dell'Xbox, del controller Elite della One Molto duro, molto resistente e che resiste soprattutto alle varie pieghe Allora, eccoci qui quindi con la scatola contenente il Razer Rage Gaming Che è il controller quindi della Razer per PlayStation 4 Andiamo a esibirlo, esibirlo, farvelo vedere Il controller è molto simile come potete vedere al controller Elite della One Ovviamente cambiano gli analogici che sono messi in maniera completamente diversa E anche gli analogici la forma è completamente diversa Il joystick vi verrà dato con in aggiunta due tappini in gomma da mettere sugli stick già attaccati Io ovviamente gli ho tolti anche se forniscono un grip maggiore Non forniscono un ottimo tocco per poter giocare agli FPS in maniera molto competitiva Alcuni tasti sono veramente fatti bene, altri un po' meno Nel senso che io sono abituato moltissimo al DualShock della 4 Fatto molto bene, adesso vi sto facendo vedere il controller DualShock classico Faccio anche lo scaf con le levete posteriori Però diciamo che si assomigliano molto Nel senso che se andate a toccare ad esempio la touch bar del controller della Razer È molto più duro da quello della PS4 La croce direzionale è anche questa è molto dura E mentre i tasti come il X quadrato triangolo e tondo O Option Share o il tasto PlayStation e così via Sono tasti a tipo mouse Anche ovviamente mi stavo scordando della parte più importante del controller Razer Raju Questi due grilletti hanno un tocco tipo click del mouse Cioè nel senso i tocchi sono molto precisi, molto leggeri Quindi appena lo cliccherete poco a poco partirà subito il comando E questo ovviamente influirà molto sul gioco Ovviamente in maniera positiva Però chi non è abituato come vi ho detto Io sono abituato con lo scaf E il tocco dietro è completamente diverso Come potete sentire anche Sono dei tasti a tipo mouse Nel senso che vi ho detto come giocherete molto spesso Magari FPS, magari qualsiasi altro gioco Vi abituerete È una questione semplicemente di tatto Perché io ho giocato con questo Ormai sono quasi due settimane che ci sto giocando E sinceramente posso affermare che questo controller Cioè è molto buono, è fatto abbastanza bene Poi ha due impostazioni come il controller Elite della One Io dico le impostazioni vanno con questo tasto Mentre qui col controller Elite c'è segnato 1 e 2 Le due impostazioni che possiamo dare al controller E niente, il controller è fatto abbastanza bene Potete alzare il volume, potete mutare Potete cambiare come vi ho detto Le impostazioni 1 e 2 Potete settare il controller direttamente da questo tasto E niente Abbiamo i blocchi per i grilletti Per i grilletti per sparare e mirare Io li ho provati con i grilletti bloccati Però sinceramente mi trovo abbastanza male Perché mi rimane il grilletto troppo fuori E quindi non riesco ad avere una presa ben salda Per poter sparare Quando invece stringo completamente Riesco a tenerlo più forte E con gli analogici ovviamente Riesco a mirare meglio Pensate a un grip così Ha un grip con i grilletti mezzo cliccati E un grip invece con i grilletti completamente cliccati Vabbè, sono cose che magari riuscirete a capire Quando lo proverete voi con mano L'unico difetto che riesco a trovare in questo controller È il fatto di questi due tasti M1 ed M2 Che secondo me sono abbastanza scomodi Io dico alle mani un po' piccole ragazzi Quindi quando andiamo a cliccare Io sono abituato a cliccare A giocare con una presa del genere Quindi una presa così Quando devo andare a cliccare questi due tasti Dovrei mollare i grilletti E cliccare questi Altrimenti dovrei giocare così Con due dita così Un dito che clicca qui E due dita Anzi Queste due dita qui attaccati sui grilletti posteriori Io ovviamente uso i medi Per cliccare M3 ed M4 Che sono i grilletti posteriori Mi viene abbastanza bene L'altro problema è che Il controller non ha il vano batterie Per chi ovviamente di voi Gioca sempre col controller In maniera wireless o bluetooth Sarà una cosa abbastanza scomoda Tenere sempre il cavo attaccato Per me ovviamente non è così Perché gioco sempre col cavo Sia con controller come questo Sia con il controller della PS4 Sia con il controller Elite Per evitare che ci sia lag Tra la console e il controller Cosa che mi sono reso conto Un problema che affligge questo controller È il fatto che molte volte Mi lagga nei controlli Cioè nei controlli Quindi mi è successo molto spesso Su Call of Duty Che l'analogico Quando stavo mirando un avversario L'analogico tendesse A farmi delle strisciate Sulla sinistra Sulla destra Cioè io miravo sulla destra Poco a poco E il comando invece Me lo spingeva Completamente sulla destra Quindi pensate a un gioco Come su Call of Duty Che la precisione è molto importante Fare questi errori Vuol dire morire istantaneamente L'altra cosa molto brutta Di questo controller È che gli analogici Questi qua Non hanno un grip buono Quindi pensate a trovarvi Con un grip del genere Questi Gli analogici del controller Elite Sono fatti apposta Per attaccare bene il dito In modo che così non si sposti Poi ovviamente Come vi ho detto Qui potete staccarli E spostarli a vostro piacimento Metterlo più alto Metterlo più basso Eccetera Ed è una cosa abbastanza comoda Staccare le croci direzionali Sono cose tutte aggiuntive E anche queste qua Le levette posteriori Sono tutte magnetiche Quindi potete staccarlo Lì ovviamente Anche su Razer È replicato una cosa del genere Le quattro levette posteriori Sono sostituite Solo da due levette Con M1 e M2 Messi qui Direttamente sui frontali Cioè sui grilletti Che come vi ho detto Sono abbastanza scomodi Qua sono i blocchi E poi ovviamente Se volete staccare i grilletti Potete staccarli Attraverso questo cacciavitino Che neanche tiro fuori Però è fattibile Staccare questi grilletti Solo che io Non ne vedo l'utilità Sinceramente Perché se voi Comprate un controller Del genere È sicuramente Per utilizzare Tutti i suoi tasti Dopotutto Io dico Per 170 euro Ne vale la pena Secondo me No Può valerne la pena Per 140 euro Sì Un controller del genere Va bene È fatto abbastanza bene Ha i suoi difetti Che mi auguro Soprattutto quello del lag Nell'errore Nell'errore Delle levette Delle levette Perché ovviamente La levette la sentite principalmente Su quella a destra Perché con quello che mirate Mentre per correre Se vi fa una laggata Non vi crea nessun problema Perché continua a correre Il vostro giocatore Questo implica Problemi abbastanza gravi Spero che lo aggiornino Molto presto Poi il problema Che vi ho detto Del vano batteria I click del mouse Tipo questi tastini Si possono risolvere Con l'utilizzo Eccetera Basterà dargli un attimo Una settimana Due settimane E vi riuscirete subito Ad approcciare al meglio Con questo controller Ne consiglio l'acquisto Quindi Per il prezzo No Per l'utilità Si E' molto buono Come controller Non ho provato il Nacon Il Nacon E' l'altro controller Che hanno prodotto Con la croce Con le croce direzioni Con gli analogici Messi in posizione Come sul controller Della One E' un controller Abbastanza bellino Solo che L'unica cosa Che non mi ha convinto Del Nacon E' stata L'analogico Destro Perché ovviamente E' bombato Tipo quello della One Come questo ragazzi Come potete vedere Io giocare un FPS Con un analogico Del genere Non è possibile Secondo me Perché ovviamente Implica molto sbagliare Nella precisione Deve essere Deve essere concavo Come questo Per poter giocare al meglio Se non l'avete comprato Utilizzate Questa recensione Guardate magari Le mie streaming Come gioco con Razer Perché io ormai Sto usando solo il Razer Sapete che è ergonomico Al massimo A mio parere Questi grilletti Sono perfetti Nella presa E niente ragazzi Spero che questo controller Possa piacervi Spero che la mia recensione Vi sia piaciuta Ci tengo a precisare Ovviamente Che questo video Ve lo faccio Perché mi fa piacere farlo Io Dopotutto acquisto Continuo a acquistare Anche se non sono sempre Online Su Youtube Faccio Faccio acquisti Videoludici Sempre Acquisto controller Acquisto giochi Cerco di mandarvi Le streaming Cerco di darvi Tutto l'occorrente Per magari valutare un gioco Valutare un prodotto Valutare qualsiasi cosa Io mi scuso Come al solito Perché sono assente Sono sempre assente Non ci sono quasi mai Su Youtube Cerco di farvi video Comunque le streaming Non sono Il video Che facevo Classico Tre volte alla settimana Di un gioco Di un episodio Di un Call of Duty Di un Battlefield Di un Titanfall Di qualsiasi altro gioco Però i tempi sono cambiati Adesso mi piacerebbe rifare Questo genere di video Però ci vuole il tempo Ci vuole Ci vuole Ci vuole dedizione Però io Cerco sempre di rendervi Rendervi partecipi Di ciò che faccio E mi auguro che A voi Voi possiate apprezzare Questa mia volontà Di restare attivo Comunque Finendo il video Questo controller Secondo me merita Non c'ho altro da dire Ci ho messo un bel po' Per fare la recensione Perché ci tenevo A darvi un parere Preciso Preciso nel fatto che Come giocabilità E mi sono dimenticato Ovviamente Di dirvi Che questo controller Secondo me È fatto principalmente Per gli FPS Perché Con uno schema Con una leve del genere Questo controller Serve principalmente A giocare FPS E non Giochi di avventura Eccetera Quindi ragazzi Spero che il video Vi sia piaciuto Come al solito Vi invito a iscrivervi Commentare Mettere mi piace Se ovviamente L'avete apprezzato Noi ci rivediamo Speriamo presto Bella raga Allora Ok Speriamo